Giornata nazionale dedicata alla colletta alimentare, quella di oggi, ultimo sabato del mese di novembre. In tutta Italia i volontari hanno indossato una petturina gialla per raccogliere i generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione acquistati da chi ha compiuto un gesto di solidarietà e beneficenza nei confronti delle famiglie meno abbienti. La comunità di Biancavilla da anni aderisce all'iniziativa caritatevole, in particolare nel territorio della parrocchia matrice. Sono stati presenti diversi volontari dei gruppi giovanili dell'oratorio Dompino Puglisi e delle ex allieve posti dinanzi ai supermercati che hanno preparato i pacchi da destinare al banco alimentare.